Il vasto palazzo ducale dei Gaetani di Castelmola, sito in via Calimera, venne costruito tra il 1887 e il 1890, ma rimase incompiuto. Per lungo tempo fu la dimora del colto duca Salvatore Gaetani di Castelmola. Nel 1999, tuttavia, il figlio Gelasio lo cedette al comune di Martano, divenendo quindi un bene patrimoniale pubblico. Il palazzo ducale è una sintesi di neoclassicismo del tardo ottocento, dal gusto eclettico e affina ai grandi palazzi progettati per i centri urbani dell'epoca. Le sale nobili superiori conservano ancora la testimonianza del loro passato, essendo finemente decorate con pregevoli mosaici. Il palazzo Grazie a tutti.